Bando alle slot machine e se non ci riesce lo Stato a togliere di mezzo, il contrario semmai, ci pensa chi ha appena dilapidato i propri risparmi. È accaduto a Fontana Viva vicino a Padova, un albanese di 47 anni dopo aver perso quasi 5000 euro, si è vendicato con un'ascia sulle macchinette mangiasoldi nel bar Madonnina gestito da cinesi.